buonasera tutti quanti questa notte piove anche non davano pioggia stanotte proprio piove venerdì 30 dicembre 2022 c'erano 8 gradi 8 gradi alle ore e mezzanotte e 19 minuti siamo qua più il tello e non c'è neanche illuminazione non hanno pagato la bolletta legato può essere vi auguro una buona notte di quanti ci sentiamo mani ciao a tutti